Mi sono un po' emozionato perché sinceramente sono da tanti anni che aspettavo un'occasione così importante. Forse il Milan è anche il club più importante in assoluto, quindi ero felicissimo. Era normale essere un po' emozionati, quindi è stata una giornata incredibile quella di ieri per me. Sono qua felicissimo per tutto quello che mi è successo ieri, anche per l'incontro con Gagliani. È stato bellissimo venire qua a Milano e per me indossare questa maglia è sicuramente un sogno. Sono un centrocampista offensivo, quindi potrei giocare sia in un centrocampo a tre e fare la mezzala o giocare più avanti all'attaccante esterno. Sono a disposizione, cerco di fare il mio meglio, poi vedremo. La promessa che darò sempre il massimo, come ho sempre fatto, col sudore e col sacrificio mi hanno portato a vestire una maglia così prestigiosa come questa e sarà un punto di partenza. Spero che tutto quello che ho fatto di buono fino adesso continuerà ad accadermi con questa maglia. Forza Milan!